Ben trovati, continua il nostro viaggio nella sanità ospedaliera Irpina e l'ospite di questa sera. Cesare Cridelli credo che non abbia bisogno di tante presentazioni, chi non lo conosce, voglio soltanto ricordare che nel 2013 una accreditatissima agenzia internazionale, come si chiamano, ricordo bene il nome, ecco la Expertscape, perdonate il mio inglese, collocò Cridelli al primo posto nella classifica mondiale degli esperti del tumore sul polmone, del tumore del polmone. Bene, questa collocazione è stata confermata dalla stessa agenzia nel 2019, ma questi risultati raggiunti dal professore Cridelli vengono da lontano, vengono da tanti studi, da una ricerca molto molto accurata e già nel 2013, se ricordo bene, mi corregga professor Cridelli, già nel 2013 lei fece parlare di sé a livello internazionale per uno studio sul carcinoma del polmone per gli over 70, dimostrando alcune cose e prescrivendo per la prima volta al mondo, mi corregga se sbaglio sempre, una opzione di cura fino ad allora sconosciuta. Ecco, questo è il professore Cridelli che oggi, da tempo per la verità, è il direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell'ospedale Moscati. Di che cosa parleremo con Cridelli? Naturalmente parleremo anche dell'atto aziendale degli ospedali riuniti Moscati-Landolfi per capire se con questo atto aziendale effettivamente c'è un salto di qualità, se il Moscati e insieme a Moscati il Landolfi faranno nel tempo che occorre per concretizzare l'atto aziendale quell'ulteriore salto di qualità che metterà in condizione questi due ospedali di competere nelle grandi sfide della sanità non soltanto campana ma italiana. Ecco, professore, cominciamo da qui. Questo atto aziendale, un suo giudizio, una sua lettura che possa essere compresa da tutti, a cominciare da me che sono un profano in materia e quindi niente accademia cortesemente, belle parole semplici per la gente. Allora, secondo me questo è un atto aziendale, un ottimo atto aziendale che è di prospettiva perché non solo ha integrato in modo definitivo e programmatico il plesso appunto dell'Andolfi che il Moscati è unico, l'azienda ospedaliera Moscati, che fa parte di due plessi, uno appunto è la cittadella ospedaliera, l'altro quindi è il Landolfi. E dobbiamo dire, quindi non solo abbiamo avuto questa collocazione strategica e quindi questa integrazione dei due ospedali e poi inoltre ha portato a un potenziamento, a un completamento di quelle che sono appunto l'offerta assistenziale di alto livello, quindi di alta specializzazione da parte del Moscati per l'Irpina, per il territorio dell'Irpina. Poi potremmo entrarci dopo su questi due aspetti in cui posso poi spiegare questi due aspetti sia dell'Andolfi sia del Moscati in generale. Ecco, entriamo subito nell'argomento, spieghiamo questi due aspetti, no? Perché questa integrazione strategica porta una innovazione molto importante sia per il Moscati che per il Landolfi, perché si tratta comunque di due ospedali che oggi fanno parte della stessa azienda ospedaliera, cioè non si può più parlare del Moscati e del Landolfi, parliamo della stessa famiglia. Ecco, ma perché l'atto aziendale rimodulando le specialità, rimodulando le funzioni dei due ospedali, porta una innovazione strategica che necessariamente dovrà dare i suoi frutti sia per il Moscati che per il Landolfi, giusto per capire? Sì, perché sul Landolfi fondamentalmente non era realistico pensare di avere dei reparti doppione, quindi dei mini reparti rispetto al Moscati con una dispersione di risorse e del personale, mentre invece sul Landolfi sono state allocate una serie di specialità strategiche per quanto riguarda il Moscati, ma è per tutto l'Irpinia, come ad esempio il più importante, perché sarai tra i più importanti, c'è tutto il centro della fertilità, della fertilità poi in appoggio soprattutto a quella che poi sono i pazienti oncologici, ma non solo. E questo tra l'altro è una struttura di livello nazionale e lo so benissimo con il dottor Rino De Semra che ha fatto un lavoro eccezionale e abbiamo convenzionamenti, faccio un esempio, ho visto proprio oggi tra le delibili, ho visto proprio una richiesta del convenzionamento del Santo Bono Posillipon per i pazienti pediatrici oncologici che faranno dal Posillipon dovranno praticamente afferire a Solufra, quindi all'Andolfi per poter fare questa preservazione della fertilità sottoposte a terapie, quindi importantissimo questa parte, ma non solo, è stato poi allocato un reparto di medicina di indirizzo epatologico importantissimo che svolge tutta un'attività di terapie locoregionali, dalla macroeva, l'ipertermia, dalle termablazioni, quindi di alta specialità e questo è un aspetto molto importante. La medicina del lavoro che sarà l'unica medicina del lavoro ospedaliera, tolta quella delle due facoltà, delle due università, quindi sarà l'unica azienda ospedaliera sugli unici posti letto, non guardiamo i due posti letto, pure l'università ha due posti letto, oggi questa attività viene svolta prevalentemente a livello ambulatoriale e a livello di idee ospita e poi perché è importante, perché è strategico che sappiamo le problematiche, quindi è una risposta al territorio legata alle problematiche delle pelli, sappiamo benissimo, ma anche di risposta alle problematiche per esempio dell'amianto, quindi per Avellino, quindi per l'ex isochimica, quindi è un aspetto molto importante, infatti proprio tra queste prospettive con il direttore abbiamo anche pianificato quello che sarà il primo ambulatorio a livello nazionale integrato di medicina oncologica del lavoro, dove ci sarà un'attività integrata tra medico del lavoro ed oncologo che svolgeranno un'ambulatoria doc multidisciplinare e questo penso che siano delle attività molto importanti che servono a qualificare ulteriormente e quindi secondo me e anche parliamoci chiaramente la possibilità di mantenere sempre in vita e dare lunga vita all'ospedale Landolfi di Solofra. Tenere invece l'ospedale Landolfi di Solofra legato a dei reparti doppione con dei numeri che non riescono a reggere quello che praticamente sono poi a livello del piano nazionale esiti sulle attività e quindi che rischiavano la chiusura, erano chiaramente una grossa problematica. Lo so che c'è stata una grande e qui dirò la mia anche sul pronto soccorso dove c'è stata una, chiaramente io parlo da tecnico e quindi non voglio entrare nell'ambito della cherel politica che non mi riguarda, non mi interessa, non è compito mio, ma dal punto del pronto soccorso considerate che il pronto soccorso è stato sostituito da un punto di cosiddetto di primo soccorso che inizialmente era di primo intervento invece è potenziato il primo soccorso perché per esempio ci sono comunque quattro posti letto di rianimazione, quindi si vede che c'è comunque un anestesista e un rianimatore H24, ma perché è importante questo? Perché riesce a svolgere tutto quello che è l'attività dei codici verdi e dei codici bianchi per smistare poi praticamente le cose più problematiche al Moscari che sappiamo dista 11 chilometri, ci sono circa 10 minuti di auto, di macchina e perché questo è importante? Perché bisogna capire che anche il pronto soccorso è cambiato completamente, il pronto soccorso ci significa veramente fare un pronto soccorso che ormai è diventato di alta specializzazione, fare un pronto soccorso senza avere un'emodinamica e quindi non avere la possibilità per uno che si arriva un infartuato e quindi perdere il tempo di portarlo, accettarlo, verificare, vedere e trasferirlo se non diventa anche rischioso dal punto di vista, mentre invece quando l'utenza sa che alcune problematiche più importanti dei sospetti possono arrivare direttamente al Moscari dove c'è sicuramente tutto quello che può sopperire e di risposta alla problematica e non solo parlo del cuore dell'emodinamica ma pensate anche a tutta la problematica dell'ictus, oggi c'è la strocchionis che è praticamente nell'ambito fondamentale per gli ictus celebrali, quindi capirete è dove c'è bisogno del neuroradiologo interventista che va a embolizzare se ci sono delle emorragie legate a un angioma celebrale e sappiamo che quando sono delle brutte sorprese molto nei giovani e quindi dicevo quindi avere ormai il pronto soccorso è super specializzazione, quindi è impensabile di avere un pronto soccorso che sia tale che non abbia queste specialità di rilievo nazionale che possano rispondere al vero pronto soccorso. Quindi questa è un po' la parte, la mia idea su quelle che sono le esigenze e quindi la mia idea sul solufra. Poi possiamo parlare invece del Moscati, quella che è stata la parte poi programmatica di investimento sul Moscati. Certo, però volevo prima, un attimo, professore Gridelli, volevo prima sottoporre il rilievo critico che è stato fatto. Lo chiedo al tecnico, non al politico, visto che lei ha fatto una sottolineatura più che opportuna, non fa politica ma fa il tecnico, punto. Ecco, perché dal suo punto di vista la politica in questa provincia ha insistito molto su questo rilievo critico del pronto soccorso facendo passare la riduzione, un pronto soccorso che diventa punto di primo soccorso facendolo passare quasi quasi per chiusura, per smantellamento dell'ospedale di Solofra. Il messaggio che è passato è questo, ecco. Ma non è così. Nell'ospedale, tra l'altro, oltre alle cose che ho detto, poi me ne vengono molto, abbiamo detto tutte cose, la fertilità, la medicina indirizzo e patologico, l'altra specializzazione delle terapie locoregionali, la medicina del lavoro, c'è tutto il polo riabilitativo. Non esiste in Campania, ma in Italia meridionale, un centro di riabilitazione che ci sarà solo fra 360 gradi, c'è avere una riabilitazione cardiologica, ortopedica, pneumologica, post-covid, non c'è nulla di simile al momento. Quindi immagini anche che cosa può essere questo. E in più, l'altra cosa importante, ci sarà tutta la desargeri del Moscati. Quindi tutti gli interventi fatti in desargeri, oggi è moltissimo, quindi lasciando l'alta specialità complessa dove c'è la maggior parte dei risolvi di alta specializzazione che possono far fronte a certi tipi di interveni, ma tutto il desargeri comunque sarà a Solofra con il personale del Moscati che farà questa parte di desargeri presso Solofra. Quindi io non penso che ci sia assolutamente un depotenziamento, anzi secondo me è un potenziamento, poi è una questione di punti di vista. Io parlo da tecnico e secondo me questo atto aziendale ha creato un qualche cosa, ha creato le basi per dare chiaramente immortalità all'ospedale Landolfi nel momento in cui tutto questo verrà. E poi sappiamo anche i milioni di euro che sono stati investiti su quelle che sono per esempio che ci saranno solo la parte di tutte le sale operatorie, quindi non penso che si possano, non so quando siano 7 milioni di euro, 8 milioni di euro, vengono così mandati e allocati per una struttura che in realtà si vuole depotenziare ed abbandonare. Questo è il mio parere di tecnico. Probabilmente c'è stata anche qualche problematica di comunicazione, non so alcune cose, però sono stati fatti molti incontri e quindi vi devo dire che il direttore generale ha ben spiegato in modo programmatico quanto poi in realtà io sto dicendo, quindi non so poi alla fine questa polemica poi come sfociare. Però quello che vi posso dire da tecnico è che secondo me è un atto aziendale che ha dato una prospettiva all'ospedale di Sofra, ma soprattutto allocandoli delle specialità che non sono e daranno una grande risposta all'Irpinia, perché avere un polo riabilitativo di questo tipo significa dare una risposta alla popolazione, alla provincia o alla medicina del lavoro, non ne parliamo, in particolare proprio per quel territorio che è martoriato da alcune, ve lo dico da esperto, di queste problematiche. Oppure quel polo della fertilità che è un polo di dilivo nazionale, quindi io penso che anche per la città avere questi punti di attrazione sarà molto importante, questa è la mia opinione e poi voglio dire che ognuno può pensare. Certo, tra poco parliamo della sua specialità che poi è la cosa anche più importante almeno per questa puntata del nostro viaggio nella sanità ospedaliera. Io per la verità vorrei permettermi di esprimere da cittadino irpino un'altra preoccupazione, non soltanto irpino ma anche da cittadino campano, visto che comunque l'atto aziendale si propone degli obiettivi che sono decisamente obiettivi molto molto alti, cioè obiettivi che dovrebbero mettere il Moscati Landolfi in competizione con le specialità, alte specialità di altri posti d'Italia e di molti altri posti d'Italia anche fuori dalla Campania. La mia preoccupazione, qui vorrei una sua risposta, è che abbiamo decisamente, almeno io ascolto il parere dei tecnici, non faccio il politico, ascolto il parere dei tecnici, abbiamo un atto aziendale secondo quello che lei dice, secondo quando concordano sulla sua opinione gli altri primari che abbiamo intervistato, un atto aziendale straordinariamente innovativo. La mia preoccupazione è questa, ma riusciremo ad attuarlo? Oppure ci troveremo di fronte ad un grande progetto, straordinario progetto, però poi non abbiamo i mezzi, i modi e i tempi per poterlo concretizzare? Come stanno le cose? Io non penso, anzi io penso, devo dire, mi auguro che ci sia continuità nell'ambito della direzione strategica, perché avendo impiantato un discorso del genere, quindi programmato tutto questo, è chiaro che ci vuole la fase 2, poi la fase applicativa, per la quale ci vuole un po' di tempo, però io so che stanno partendo, penso che proprio sia stato notificato in modo ufficiale della regione al Moscate l'approvazione del piano proprio oggi e l'altro ieri pomeriggio, mi dicevano, quindi già si è pronti praticamente a iniziare questo lavoro. Io ci tenevo tra l'altro a dire poi quello che è il completamento sulla risposta alla popolazione irpina, alle esigenze della popolazione irpina, quindi abbiamo visto l'atto aziendale per quanto riguarda l'integrazione di Solufra e queste specialità, molto più molto importanti e peculiari che andranno a Solufra, però altre cose fondamentali sono state, anche fondamentale per l'importanza appunto per il Covid, per esempio la qualificazione della pneumologia che è stata riportata a struttura complessa, invece nella precedente cosa è stata derubricata, non era in realtà un primariato, una struttura complessa, invece così sarà potenziata. La chirurgia toracica, io ho lavorato tanto per portare la chirurgia toracica e finalmente ho trovato risposta, perché vedete noi abbiamo un polo di eccellenza per quanto riguarda i tumori del polmone e lo ha detto lei nell'introduzione, quindi facciamo ricerca clinica, sperimentazioni cliniche, quello che mancava era l'anello per chiudere il cerchio, abbiamo una grande radioterapia, una importante oncologia, ci mancava appunto la chirurgia toracica e con l'atto aziendale 10 posti di chirurgia toracica è fondamentale e questo che significherà? Che i pazienti irpini non dovranno più migrare, noi abbiamo cominciato già a dare con i gruppi multidisciplinari e con la rete oncologica una risposta, con una convenzione, sapete che viene il direttore bravissimo del Monaldi della chirurgia toracica, il dottor Carlo Curcio, che viene a fare il gruppo multidisciplinare e fa la seduta operatoria settimanale in convenzione, ma tra poco avremo il nostro primario in cui verrà fatta appunto poi il concorso per il primariato, per la struttura complessa che sta nell'atto aziendale, i pazienti irpini non dovranno più migrare, oggi un paziente irpino che ha un cancro del polmone e deve essere operato e possono avere un intervento circa il 20% dei pazienti deve andare fuori o deve andare al nord o deve andare in intramenia pagando in ospedali napoletani più affollati che hanno delle lunghissime liste d'attesa, quindi questo per esempio ha un grande pregio. E un'altra cosa importantissima, le altre due dell'atto aziendale sono state l'istituzione del Dipartimento di Neuroscienze, che è fondamentale e innovativo, cioè che significa? In un Dipartimento c'è tutta la branca legata alla neurologia, la neurochirurgia, la neuroradiologia, proprio quella stroke unit di cui io parlavo, d'appoggio proprio alla medicina e all'urgenza, al pronto soccorso per gli equitus cerebrali, quindi tutto portato nell'ambito di un Dipartimento e l'altro sono i tumori della tiroide. Noi avevamo un'altra lacuna legata al fatto che abbiamo delle ottime professionelle che operano i tumori della tiroide, abbiamo delle ottime professionelle per la parte oncologica, ci mancava quella che è la terapia metabolica, che si fa oggi con la radioterapia metabolica, è un'altra branca, non è la radioterapia tradizionale, che fanno i medici nucleari, ma c'è bisogno dei posti letto dedicati e quindi sono stati istituiti dei posti letto dedicati alla radioterapia metabolica in questo atto aziendale, significherà che noi potremo curare i tumori della tiroide, che ce ne sono tanti, a 360 gradi. Oggi che succede? Che il popolo ipino purtroppo deve emigrare per la radioterapia metabolica, deve andare in regione o fuori regione, molti vanno a Pisa, vanno a Roma o vanno fuori provincia. Quindi secondo me un atto aziendale che finalmente dopo tanti anni ha dato una risposta e ha completato quella che è l'esigenza della gente, del popolo, dell'utenza e ha chiuso, quindi prende il cerchio su una serie di cose, creando delle strutture a alto livello, io penso che sia un atto aziendale molto importante. Poi per amor di Dio tutto è perfettibile, tutto può migliorare, ci saranno sempre degli scontenti, di qualsiasi cosa viene fatto. Ma comunque io penso che tutto questo, quest'atto ha avuto questo grande pregio di integrare nell'alta specialità Solufra, quindi il Landolfi, e ha potenziato delle aree importanti della cittadella ospedaliera, creando secondo me un completamento dell'azienda, quindi un atto aziendale prospettico che guarda al futuro e quindi speriamo di poterlo poi anche attuare da questo punto di vista. Parliamo dell'oncologia, lei è stato tra gli ideatori e tra gli attuatori, anche sulla buona, bella intuizione che è stata trasmessa al Presidente della Regione, è stato tra gli attuatori e gli ideatori della rete oncologica in Campania. Come siamo messi? Nessuno meglio di lei può darci la fotografia, bella nitida, in breve, senza fronzoli e senza peli sulla lingua. Come siamo messi a tumori in Campania? Allora, diciamo che la rete oncologica campana, sono circa un tre anni che è stata ergollando, è un lavoro enorme, siamo partiti dal nulla. Non c'era nulla fino ad adesso, dopodiché la Regione ha investito su questo con dei finanziamenti e oggi abbiamo una rete oncologica che è chiaro che sta in fase di completamento, ma per la prima volta abbiamo in quasi ormai tutti gli ospedali di riferimento. Il Moscati è uno dei centri di riferimento regionali, uno degli ottocenti di riferimento regionali oncologici con l'istituzione dei gruppi oncologici, questa è la rivoluzione, gruppi oncologici multidisciplinari, i cosiddetti GOM. Qual è l'innovazione? L'innovazione è che il paziente, soprattutto nella gestione dei casi complessi, non nei casi semplici, ma nei casi complessi, non è che viene visto dall'oncologo che poi dice vai a fare la visita al radioterapista, poi il radioterapista dice vai a fare la visita al chirurgo, devi fare una PET, torna quando c'è la PET e il paziente rimbalza con una pallina di ping pong, praticamente, tra i vari specialisti e tra i vari centri, molto spesso esterni, per fare queste cose. L'innovazione, noi dobbiamo dire, abbiamo il pregio, il pregio di essere stato il primo centro in cabana ad aver completato questi gruppi multidisciplinari, ne abbiamo 24 attivi, dove in realtà qual è l'innovazione? Che paziente viene visto dal gruppo multidisciplinari, cioè il paziente viene a fare la visita, il caso complesso, viene analizzato, viene visitato dal gruppo, quindi ci sarà nella stessa visita, sarà presente il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, il patologo, tutti gli attori di quella patologia, di quel tipo di tumore, si prende una decisione condivisa, viene fatto un verbale che viene definito e poi il paziente afferisce al settore se deve fare la chemioterapia, l'oncologo lo prende in carica, se deve essere operato lo prende in corico il chirurgo e soprattutto, un'altra cosa importante, siamo riusciti a creare degli slot dedicati ai gruppi oncologici multidisciplinari, cioè come per gli esami, per le TAC, le risonanze, le PET ci sono per i pazienti ricoverati interni e per gli ambulatoriali, c'è un terzo slot che sono i pazienti dei gomm della rete oncologica, dove i pazienti in realtà che hanno necessità per avere la decisione di fare la PET non deve andare fuori, non deve preoccuparsi di andare a vedere la PET, ma la PET viene fatta all'interno e poi c'è una figura angelica che è il cosiddetto case manager, noi ne abbiamo quattro che gestiscono questi gruppi che prendono in carico il paziente, quindi gli prenotano l'esame, lo chiamano, lei mi mandi questo tipo di impegnativa, venga domani alle 8 per fare la PET, poi raccoglie la risposta della PET e gli riorganizza la riunione per la decisione finale della PET, insomma è un altro mondo, è un altro mondo che è iniziato e che ormai è da noi pratica corrente, il grande piacere della grande attività è legato che dai dati confermati negli ultimi mesi, in realtà il Mosca di Avellino dopo il Pascale è il secondo centro oncologico per numero di pazienti visti nei 24 gomma e segnalati in piattaforma, quindi questo è importante, sulla piattaforma regionale, quindi questo che significa che ha tolto il Pascale, che comunque è una struttura che fa solo quello, sapete, oncologica e che ha decine e decine di dipendenti che svolgono solo questo tipo di attività, tolto il Pascale noi siamo i primi per quanto riguarda l'attività oncologica e quindi con un'attività maggiore rispetto a colossi come il Cardarelli, come il Monaldi, come le università e questo è un grande sforzo a parte di tutta l'attività, di tutti i miei collaboratori, ma tutto il personale del Mosca. Io penso che questo è un discorso molto importante, è chiaro che ci sono una serie di difficoltà e di problematiche che man mano cerchiamo di superare e ottimizziamo, per esempio faccio un esempio oggi con il grande potenziamento della cardiologia, siamo con il dottor Di Lorenzo, il primario e chiaramente con la direzione strategica creando una cosa pure qui innovativa, che siamo i primi a farlo, l'ambulatorio di cardio-oncologia, quindi tutte le problematiche cardiologiche, tutti gli esami, gli ecocardiogrammi che i pazienti non devono andare più fuori, pagare privatamente, ma in realtà possono fare tutto all'interno perché ci sarà un ambulatorio di un cardiologo dedicato solo agli oncologici, come abbiamo nell'ambula rite oncologica creato una cosa molto bella, che è il CUP oncologico dedicato, cioè i pazienti oncologici hanno un CUP, in modo sono meno attese, meno problematiche, con degli operatori dedicati solo ai pazienti oncologici in un'area a parte del primo piano della cittadella, dove poi ci sono le esame multimediali, dove abbiamo creato queste sale in collegamento con le sale radiologiche, dove in realtà si riuniscono tutti gli specialisti in queste riunioni di gruppo e dove visitano il paziente tutti insieme per la decisione. Io penso che sia molto importante, questa è la nuova medicina. Andiamo sulle difficoltà alle quali lei accennava, professor Gridelli. Noi siamo al sedicesimo mese di pandemia e sappiamo tutti che in questi sedici mesi le risorse, la stragrande maggioranza delle risorse umane, anche economiche, bisogna dire, del Moscati, sono state concentrate sulla pandemia per far fronte al Covid, eccetera. Quanto ha inciso questa pandemia, quando sta incidendo, perché purtroppo non è ancora finita, sulle attività ordinarie, specialmente per quanto riguarda la oncologia? Lei ha lanciato l'allarme qualche settimana fa, ha detto stiamo attenti perché tutto il lavoro di prevenzione, di programmazione sulla prevenzione che avremmo dovuto e potuto fare, o meglio non potuto fare per colpa della pandemia, ce la ritroviamo oggi tra i piedi e diventa un problema molto molto serio. Che cosa bisogna fare per recuperare quelle energie che abbiamo non sprecato, abbiamo impegnato sul fronte della pandemia? Allora, noi sulla parte oncologica in realtà con grande sacrificio e abnegazione del personale, perché comunque gli oncologi hanno fatto i turni nei Covid, nei reparti Covid, per quando siamo stati investiti all'ondata e anche nell'ultima, la terza ondata e quindi questo capirete, ma lo hanno fatto diciamo in modo oltre a quello che già facendo la loro attività, non abbiamo mai chiuso il reparto, mai ridotto l'attività di chemioterapia, tutto da noi è funzionato normalmente. Quello che si è avuto è una riduzione dell'attività ambulatoriale, ma non da noi, perché nelle ondate i pazienti in ambulanza hanno paura, non venivano e questo è il problema. Quindi l'attività ambulatoriale in realtà da decreto regionale l'attività oncologica non si è mai fermata, è fermata come l'urgenza, quindi praticamente noi abbiamo sempre funzionato in modo completo. Quello che bisogna fare attenzione e che vi dico che si paga, sono in termini delle diagnosi ritardate. Noi stiamo vedendo purtroppo tanti pazienti che arrivano in una fase molto avanzata di malattia, faccio un esempio pratico, arriva il paziente con tumore del polmone già con la frattura di femore per la metastasi perché aveva un dolore in una gamba da sei mesi e aveva paura di andare al centro per poter farsi o in ospedale per farsi una radiografia. Questo per farvi capire, ho il paziente con tumore del polmone o con altri tipi di tumore che arriva in una fase molto avanzata, questo stiamo vedendo. C'è pazienti che in questa fase ci arrivano con delle diagnosi tardive per il timore di affredire, quindi bisogna dire di non aver paura di venire e di fare gli esami perché sennò effettivamente la situazione diventa molto pericolosa. In più quello che c'è poi da recuperare molto è tutto lo screening. Noi abbiamo, si ipotizza, circa 2 milioni e in mezzo di esami di screening in meno in Italia in questi 16 mesi. Questo che si guida i classici esami di screening che sono le mammografie per i tumori della mammella, la part test HPV per i tumori della cervice uterina, il sangue occulto delle feci, tutto quello che faceva l'ASL che poi è stata, le ASL in generale sono state praticamente, hanno tutte le loro risorse, sono state assorbite dai tracciamenti, dalle vaccinazioni, dalle USCA, delle terapie in degrado domiciliari, da tutto questo aspetto. Il problema è che il timore, ma questo è un timore mondiale, che tutti questi esami di screening fatti in meno porteranno poi dei dolori in termini di mortalità perché chiaramente avremo diagnosi più tardive e quindi che significa paziente con una prognosi peggiore. L'ultima domanda, Professor Gridelli, come ogni attività umana, come ogni attività sociale, la sanità che ha la sua importanza primaria, molto di quello che si fa, che si riesce a fare, i risultati che si ottengono, tutto questo spesso dipende anche dal fattore ambientale, dal clima in cui si opera e quindi clima istituzionale, clima della comunicazione, clima sociale in generale. Ecco, dal suo punto di vista, le vicende del Moscati, l'attività del Moscati, come vive questa collaborazione o non collaborazione con il mondo esterno alla città ospedaliera. Tutte le cose che lei ha detto, che sono poi state confermate da tanti fatti, probabilmente nemmeno si conoscono all'esterno, quindi probabilmente c'è stato un deficit anche di comunicazione, non adebitabile a nessuno, per carità. La gente non ha percepito il gioiello Moscati fino in fondo. Ecco, com'è possibile aggiustare un po' tutto in maniera che ci sia quella forma di collaborazione, quel clima, quell'ambiente ideale per far crescere una cosa che è oggettivamente un'eccellenza, una cosa buona? Guardi, questo è un aspetto molto importante. Io penso che questo debba essere fatto solo mediante l'informazione, cioè quello che ad esempio sta facendo lei, perché dare spazio per far capire quello che si fa, perché se no, al di là di chi poi ne usufruisce, perché chi era abituato a fare una visita dall'oncologo o dal radioterapista è ad essere rimbalzato a destra e a sinistra poi con gli esami da fare, perché si vede adesso accolto da un team multidisciplinare con una case manager che è un'infermiera specializzata che se ne prende cura, che ti prenota gli esami, che ti chiama e ti ti ore. È chiaro, questa è la percezione dell'utenza e della cittadinanza, però prima che questo si allarghi ci vorrà del tempo. Invece secondo me è importante, perché questo serve anche a bloccare quella che è la migrazione, perché poi vi dico, ci stanno facendo grossi sforzi anche in altri settori, come ad esempio anche sull'assistenza domiciliare, ecco la rete oncologica, stiamo cercando con tutte le problematiche legate giustamente all'impatto Covid per l'ASL, però l'ASL c'è un'unità ormai di terapie domiciliari che nella rete oncologica noi possiamo, e questo è per tutta la Campania, richiedere all'ASL di appartenenza del paziente, quindi anche di Avellino, nel momento in cui viene dimesso, affidarlo poi all'assistenza domiciliare dell'ASL che va dal paziente per la continuità di cura. Ecco, queste sono cose che fino a poco tempo fa non esistevano e che da un anno ci sono, e questo è molto importante, sono degli aspetti importanti, oppure come quella che è l'innovazione delle sperimentazioni cliniche che facciamo, ne facciamo tante, in campo oncologico ma anche ematologico, abbiamo una personalità che è Antonio Ricitano, il primario ematologo, che anche per l'ematologia fa sperimentazioni importanti, sperimentazioni internazionali come l'oncologia e qui si creano delle eccellenze che si stanno allargando e che danno delle opportunità terapeutiche importanti, nuovi farmaci, si allungano le sopravvivenze, si blocca la migrazione sanitaria facendo studi clinici con nuovi farmaci, che i pazienti molto spesso migrano per l'innovazione, per avere nuove molecole che noi oggi riusciamo a fornire in grandissimi casi nell'ambito degli studi e come noi a settembre partiremo, è già tutto pronto, con un apparecchio importantissimo che si chiama NGS, cioè noi potremo al Moscati fare il profilo genetico del tumore e impiantare la terapia da fare in base personalizzata, in base alla genetica del tumore, questo attualmente è presente solo in Campania al CROM, quindi al Pascale, Istituto Tumori di Napoli e all'Università Federico II, saremo la prima azienda ospedaliera che sarà in autonomia a fare questo profilo completo generale, genetico del tumore del paziente da cui potremo poi definire la terapia biologica da fare, oppure se non è ancora disponibile ma individuiamo un'alterazione genetica target, quella che può essere per esempio la sperimentazione adeguata o da noi o presso altri centri, quindi sono tante cose importanti che stiamo mettendo su e quindi come diceva lei, quello che dobbiamo fare è divulgare, far sapere perché per dare risposte all'utenza, l'utenza lo deve anche sapere, quindi tutto questo bisognerà secondo me fare un grosso sforzo di comunicazione a livello aziendale con l'aiuto di India proprio per rendere la popolazione partecipe di tutto quello che viene fatto e di agifare, ma non solo in campo oncologico del Moscati e quindi per poter far sì che certe cose si sappiano, questo è molto importante. Bene, grazie al professor Gridelli per essere stato con noi, grazie per il contributo di chiarezza e di conoscenza che ha dato e noi accettiamo il suo invito, l'invito a una buona comunicazione, a una buona informazione che serve al Moscati, serve soprattutto ai cittadini dell'Irpinia e della Campania. Grazie ancora a Gridelli, arrivederci con la prossima puntata dei nostri speciali Sanità. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.